Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di olivo e concedi a noi, i tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Marco Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro Andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro Sale sopra un puledro e dall'umiltà di Gesù che vogliamo imparare quella piccola umiltà che ogni giorno dovremmo incarnare nella nostra vita e con il nostro modo di essere uomini e cristiani. Cerchiamo di mantenere un ordine di venire dietro la croce e di vivere questo momento pregando Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Grazie.